Se vuoi provare le migliori carni nostrane, vieni a trovarci alla macelleria di Angelo Passalacqua. Troverai oltre 50 tipi di preparati a base di carne e tutti i giorni, polli allo spiado cotti nel forno con mattoni refrettari. Inoltre, per i palati più esigenti, l'originale carne argentina cuberol. Ed ancora una vasta scelta di formaggi locali, salumi ed insaccati di nostra produzione. Qualità e genuinità camminano a pari passo con noi. Macelleria di Angelo Passalacqua, Viale della Libertà 1, Melito Portosalvo, Info 347 058 50 59 Ogni mercoledì frittole, la macelleria di Angelo Passalacqua vi augura buone feste.